Sì, no, è davanti a me in questo momento. Bene. Vi devo chiedere ancora un attimo di pazienza. Consolo, non capisco cosa sta succedendo. Mi scusi. Scusate, ma non potevo dirvi nulla prima di entrare in possesso. Di questo materiale. Cosa c'è in quella valigetta? C'è stato un ritrovamento, proprio sul fondale dove era ancorata la barca. Signora Treger, riconosce questa pistola? Scusate, ma non potevo dirvi nulla prima di entrare in possesso. Scusate, ma non potevo dirvi nulla prima di entrare in possesso. Scusate, ma non potevo dirvi nulla prima di entrare in possesso.